Tommaso, quanta sfortuna domenica anche dal punto di vista personale? Ma sfortuna? Io credo sempre poco, sia a fortuna che a sfortuna, quindi parlo più di responsabilità. Sicuramente è una mia responsabilità su quel gol, quindi pazienza. Una nota positiva secondo me è che abbiamo fatto un'ottima partita comunque, perché brucia perdere una partita senza aver mai subito un tiro in porta. E' creando 5-6 occasioni nitide, quindi questo brucia sicuramente. Per il resto, ripeto, io personalmente mi prendo assolutamente la responsabilità. Su quel gesto eri un po' indeciso, eri? No, 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 non era una questione di indecisione, quella è una questione di concetto. Non devo andarci col destro ma bensì col sinistro, quindi è semplice. È stata sicuramente una disattenzione mia, quindi non è... È il caso di abbattersi perché aver perso in questo modo una gara così cruciale, no? Con l'Apriglia, anche se mancano diverse altre partite. Ritieni che si ha perso il treno? Assolutamente no. Tu lo sai, io altre interviste, altre volte, ho sempre predicato, anche dopo quando abbiamo fatto 5 vittorie in 6 partiti, ho sempre predicato calma e rimanere sempre coi piedi per terra e tranquillità. È lo stesso in questo momento, quindi è stata una partita che comunque secondo me abbiamo giocato ottimamente, cioè abbiamo messo sotto i nostri avversari, poi purtroppo gli episodi fanno la differenza. Succede, io ho fatto un autogol, Andrea ha sbagliato un rigore, 3-4 occasioni, parate, non siamo riusciti a far gol. Pazienza, si proverà, proveremo a rifarci domenica, alla fine non credo sia cambiato nulla, quindi vediamo i nostri obiettivi partita per partita, almeno per quanto riguarda personalmente. Domenica, Interreggio, che è una squadra molto difficile da affrontare, specie in questo momento della stagione dove sono particolarmente in forma. Secondo me sono tutti ossi duri, ci siamo resi conto che tante volte giocare contro le più forti, cioè contro quelle più in alto in classifica, non significa giocare contro le squadre più forti, è un campionato equilibrato, quindi tutte le squadre sono fortissime. Sarà duro andare giù a fare risultato, però noi ci proviamo, ce la mettiamo tutto, come stiamo facendo, nella speranza che forse qualche episodio è a nostro favore invece che contro magari, oppure magari senza episodio e niente che riusciamo a vincere lo stesso, speriamo.